L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila inaugura in maniera ufficiale il suo anno accademico 2022-2023, un polo di alta formazione culturale in salute con tanti progetti portati a termine o che stanno venendo messi in cantiere. Tutti quanti all'insegna dell'attrattività, dell'apertura e della collaborazione con il territorio. A mettere il sigillo sulla bontà della strategia adottata dall'Accademia, i numeri riguardanti gli studenti, 163 le matricole su un totale di quasi 450 allievi. Che fotografia si scatta? Che quadro viene fuori per questo polo di alta formazione artistica e culturale? Sicuramente una fotografia a colori, dettata principalmente al di là dell'avvio dei nuovi corsi e di nuove attività didattiche che ci sono state autorizzate l'anno scorso dal Ministero, il numero delle matricole, che su un fronte con una massa totale di poco meno di 450 allievi, quest'anno ha registrato il numero di 163 nuovi iscritti. Quindi per noi è veramente un dato importante, un dato innovativo, un dato di cambiamento che ci fa capire che il lavoro intrapreso negli ultimi due anni, tra l'altro all'interno dei momenti della pandemia, ha rappresentato un inserimento nel territorio molto importante che i giovani e le famiglie hanno capito. Ricordo ad esempio a proposito di apertura al territorio, l'apertura della biblioteca dell'Accademia. L'apertura della biblioteca è stata importantissima con un grandissimo lavoro informatico alle spalle che tra l'altro consente l'usufruimento di questa biblioteca, non soltanto agli allievi ma a tutti coloro che lo vogliono fare, quindi è aperta tutta la città. E poi a livello infrastrutturale l'apertura di un nuovo polo che è poco lontano appunto dal corpo principale. Il nuovo padiglione che è dedicato a Fabio Mauri, che è stato inaugurato l'anno passato, che ormai è diventato un punto di riferimento e a regime costante, luogo di attività, di lavoro e di studio di tutti gli allievi. A certificare l'attenzione anche da parte del governo riguardo l'azione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila la presenza alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del sottosegretario al Ministero dell'Università e Ricerca, Augusta Montaruli. Quanto sono importanti nella galassia formativa i poli di alta formazione artistico-culturale? Sono un patrimonio inestimabile ed è per questo che questo Ministero vuole, nella legislatura che sta vivendo, fare in modo che si colmi quel quarto di secolo di una riforma non compiuta per il mondo AFAM. È giusto che il mondo delle AFAM, di cui anche l'Accademia di Belle Arti fanno parte, abbia la giusta valorizzazione per fare in modo non soltanto che ci siano operatori di questo vero e proprio comparto soddisfatti ma soprattutto si dia un volano a tutte le arti della nostra nazione. All'Aquila tra l'altro ha una valenza particolare perché c'è un corso di restauro, si lega con il tema della ricostruzione? Assolutamente sì ed è un patrimonio di eccellenza che riteniamo preservare ed è per questo che sono qua. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha visto anche la partecipazione della scrittrice Donatella di Pietrantonio, una vera e propria artista della parola, protagonista di un dialogo con la giornalista Angela Ciano. A chiudere la mattinata l'inaugurazione ufficiale della mostra Obiettivo l'Aquila all'Italia nelle fotografie di Milton Gendel. In esposizione tra il foyer del Teatro dell'Accademia e la navata vetrata di Palazzo Emiciclo, 55 scatti in bianco e nero a raccontare il capoluogo d'Abruzzo, ma non solo, attraverso appunto l'obiettivo di Milton Gendel, fotografo statunitense nato nel 1918, scomparso nel 2018 e che dal 1950 fino alla morte ha vissuto a Roma. La mostra è stata organizzata in Accademia e a Palazzo Emiciclo grazie alla collaborazione con la Fondazione Primoli di Roma.